Solo un problema della Sardegna, dove peraltro continuano i progressi nella lotta alla malattia. Gran parte dell'isola indenne, dice il direttore dell'Istituto Zoo Profilatico, e questo potrà consentire di riaprire le esportazioni. Roberta Dore. 40 anni fa la comparsa nell'isola, nel 2013 il picco con 109 focolai, oggi appena 5 isolati in alcune aree del Nuorese o Gliastra, dove nei prossimi mesi si interverrà ancora per abbattere i suini allo stato brado. E' proprio la Sardegna, diventa un punto di riferimento a livello internazionale, grazie alle esperienze e ai risultati raggiunti per debellare la peste suina, esplose in maniera preoccupante in Asia e Europa. Questo naturalmente ha anche indotto le autorità europee, ma direi anche le Nazioni Unite, la FAO, a cercare di coagulare una risposta internazionale più forte. E qui, ecco, devo dire, sono stato personalmente chiamato in causa, cosa ovviamente per tutta l'esperienza che è stata maturata in Sardegna in questi anni. Il fatto che in Sardegna siamo riusciti finalmente a mettere in piedi un piano di eradicazione che sta portando a dei risultati molto positivi, naturalmente ha cresciuto la credibilità di quanto si fa anche nel mio istituto a livello internazionale. Un allarme da non sottovalutare che ha spinto la Coldiretti a lanciare un appello per bloccare le importazioni di carne di maiale da Bruxelles. Io penso che più che impegnarsi a cercare di bloccare le importazioni al Belgio, dobbiamo cercare di sbloccare le esportazioni alla Sardegna. I passi in avanti che sono stati fatti in questi mesi, in questi anni, hanno sicuramente accresciuto la credibilità della Sardegna. Oramai la malattia è confinata solamente in alcune zone, il resto dell'isola si può considerare indenne. Ci sono le condizioni per richiedere una riapertura del mercato, almeno da quelle parti della Sardegna.